ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato agli ovetti kinder sorpresa più precisamente alla serie disney 100 anni che sta in giro in questo periodo in tutti i supermercati d'italia in questo video ci andremo ad aprire un'altra scatolina di questa raccolta vi ricordo uno su tre nelle scatole da tre è un personaggio della serie disney altri due sono componibili e poi ci andremo a vedere un po la serie completa come è fatta prima di partire però con lo spacchettamento io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e detto questo direi di andare subito ad aprire la scatolina da tre ovetti allora vediamo un pochino eccolo qua il nostro vetto con il personaggio disney che apriremo alla fine andiamo ad aprire il primo componibile vediamo che cosa abbiamo trovato allora vediamo soprattutto se un componibile di questa stagione che stiamo avendo un po di difficoltà a trovare componibili di quest'anno e nemmeno no è un componibile vd 218 è una tartarugina che però sembra che non ricordi quindi probabilmente non ce l'ho andiamo avanti secondo componibile allora vi ricordo che il codice di questa stagione è il codice vt quindi i codici vt sono di questa stagione anche questo è un personaggio dell'anno scorso perché non mi sembra anche se la cartina con questo bordo bianco potrebbe essere una mezza variante vd 116 un astronauta non ci interessa lo mettiamo da parte ultimo ovetto intanto e niente allora vi confermo gli ovetti le sorprese vt quest'anno componibili sono molto complicate da trovare infatti io ne ho trovate molte poche niente ho trovato topolino ragazzi topolino che avevo trovato già nell'altra confezione quindi avevo trovato un solo pezzo ed era topolino e ho ritrovato ancora una volta topolino quindi non è stata un'apertura molto fortunata ce lo andiamo anche a montare così lo vediamo montato e eccolo qui eccolo qui il nostro mickey mouse topolino uno degli otto personaggi della serie disney dei cento anni detto questo ragazzi ripuliamo il tavolo e vediamoci un po come è fatta questa serie e allora ragazzi eccola qua tutta la serie schierata gli otto personaggi della serie disney come vi dicevo le basi formano un puzzle quindi possono essere unite e formare quindi un unico pezzo sono otto i nostri protagonisti partiamo da da stitch di lillo e stitch eccolo qui con il codice 327 lo vediamo sulla destra eccolo qui e lo andiamo anche a vedere eccolo il nostro stitch molto molto carino fatto davvero bene eccolo qui se va a fuoco poi continuiamo con nemo nemo e vt 331 eccolo qua è un po diverso dai personaggi di nemo che erano usciti nelle serie precedenti quindi va bene così poi abbiamo olaf altro mezzo riciclo con vt 328 la sua cartina eccolo lo andiamo a vedere è sempre carino olaf direttamente da frozen i personaggi vi ricordo eccoli qua li vediamo anche sullo sfondo poi abbiamo simba del re leone vt 329 la sua cartina ed eccolo qua il nostro simba anche questo molto carino poi abbiamo il nostro pizzi della carica de 101 vt 335 la cartina illustrativa eccolo qui pizzi lo vediamo il nostro dalmata poi abbiamo mike wakowski da mostrare company vt 354 eccolo il nostro mostro mike e poi eccoli qui i grandi protagonisti minni e topolino eccoli qui molto molto carini allora vi dico che minni una versione molto simile uscita qualche anno fa già in una serie direttamente dalla cina quindi c'era una serie di mini dedicata a mini in cui c'erano alcuni componibili e anche questo personaggio sono vt 330 per mini vt 334 per topolino gli ultimi due personaggi della serie disney i nostri protagonisti eccoli qua 100 anni detto questo ragazzi vi posso salutare la serie è completa disney 100 anni quindi 8 personaggi con le 8 cartine illustrative in kinder sorpresa in questo periodo detto questo fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto questa collezione se la state cercando di terminare chi vi manca se avete trovato qualche pezzo doppio così capiamo anche se c'è qualche personaggio più difficile a trovare come per esempio nella serie dc c'è il avvolgicavo di superman che sembra essere molto molto complesso da trovare almeno in italia e detto questo ragazzi prima di salutarvi come sempre vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e con gli otto personaggi della serie disney per kinder sorpresa dal lanciere è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao